La filosofia antica è suddivisa in cinque grandi periodi, il periodo cosmologico, antropologico, ontologico, etico e religioso. Abbiamo già trattato il primo periodo, periodo cosmologico, quello in cui l'oggetto principale della riflessione filosofica era la ricerca dell'archè, ovvero del principio primo che ordinava l'universo, che governava l'universo, quindi un principio fisico che desse risposta agli interrogativi dell'uomo sul divenire, sul nascere, sul crescere, il morire delle cose e anche dell'uomo, che rispondesse agli interrogativi legati alle paure, ai timori, ai terrori dell'uomo, ovvero la nascita, la morte, le malattie. Ad un certo punto della storia del pensiero filosofico l'oggetto, l'interesse principale della filosofia comincia a cambiare, non è più l'archè, non è più il cosmo, l'ordine dell'universo, che comunque continuano a essere studiati, ma la centralità viene acquisita da qualcosa di diverso. Perché questo? Perché alle origini del pensiero filosofico noi abbiamo parlato di una serie di colonie greche sparse per il Mediterraneo, dall'Asia minore fino alla Magna Grecia, nel sud dell'Italia. Ad un certo punto, però, nel V secolo a.C. comincia a nascere, a svilupparsi, una forma di polis molto particolare e importante, che è la città di Atene. La città di Atene nel 400 a.C., nel V secolo, vive un periodo di grande splendore e di grande fioritura, non solo dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista culturale e politico. E questo porterà la filosofia a concentrarsi su nuovi aspetti legati soprattutto alla formazione, all'educazione dell'uomo. Ecco perché il periodo, il secondo periodo della filosofia antica, viene definito periodo antropologico. Perché è un periodo in cui l'oggetto principale della filosofia diventa l'uomo. E questo periodo antropologico, che abbraccia tutto il V secolo a.C., è definito anche il periodo della filosofia ad Atene. Quindi, dopo aver viaggiato per il Mediterraneo, ci fermiamo ad Atene e andiamo a vedere qual è la storia del pensiero filosofico di questa città che così grande importanza ha avuto anche per la formazione e la diffusione del pensiero filosofico greco anche per i secoli a venire. Il periodo della filosofia ad Atene corrisponde alla cosiddetta età di Pericle, come leggiamo. Pericle è stato il grande uomo politico protagonista di quest'età d'oro che è iniziata nel 460 a.C. fino al 429 ed è il politico che ha dato vita alla cosiddetta democrazia ad Atene. Che cos'era la democrazia a Atene, poi lo approfondiremo anche in altri ambiti legati allo studio della cittadinanza e quindi dell'educazione civica. Però, detto in breve, la democrazia è una forma di governo che si afferma nell'Atene di Pericle e attraverso la quale i cittadini, cioè gli abitanti dell'agorà, cioè della piazza, cioè della parte alta della città, possono prendere parte alle decisioni del governo attraverso delle assemblee in piazza. Ora, la democrazia atenese certo non somiglia neanche lontanamente a quella che abbiamo come idea oggi, come democrazia. Non è una democrazia di tutta la popolazione, perché nella città abitava soltanto una piccola parte della popolazione. Il grosso della popolazione erano contadini, oppure schiavi, oppure le donne anche non avevano diritto di parola e quindi è una democrazia limitata ai cittadini che si trovavano appunto nella parte alta della città e che si riunivano nell'agorà, nella piazza. Ora, dal momento che ad Atene viene inventata la democrazia, in qualche modo, inizia l'esigenza di formare i cittadini e quindi ad Atene cominciano a diffondersi una serie di intellettuali, di uomini di cultura, che ora vedremo, di uomini sapienti, in grado di poter insegnare le cose importanti, diciamo di insegnare un po' tutto quanto, ai cittadini che volessero prendere parte appunto alla vita politica. Quindi nasce l'esigenza di formare l'uomo nuovo, il cittadino ateniese, che potesse essere anche in grado di convincere con l'arte della dialettica o della retorica. Come vedremo tra poco queste due parole saranno due parole chiave del periodo antropologico della filosofia ad Atene. Quindi si affermano ad Atene le figure dei sapienti, dei maestri, dei sapientissimi, che vengono chiamati con un termine appunto di origine greca i sofisti. Questo ci arriva a far capire che il periodo antropologico ad Atene può essere soddiviso in due parti, se vogliamo. La prima parte è il periodo dei sofisti o dei sapienti, noi ne citeremo uno solo il più importante, Protagora. Ma la seconda parte è legata invece a quello che è il primo grande filosofo della tradizione filosofica occidentale, ovvero Socrate. Tuttavia il filosofo Socrate non fa parte dei sofisti, diciamolo subito, anzi Socrate fonda la propria filosofia proprio dalla contrapposizione con il pensiero dei sofisti. Socrate è colui che si distinguerà dai sofisti. Ecco perché noi dobbiamo distinguere il periodo antropologico in due pensieri nettamente separati, il pensiero dei sofisti e il pensiero di Socrate. Questo è il periodo antropologico. certo hanno una cosa in comune, antropos, in greco vuol dire uomo, quindi sono entrambi interessati all'uomo, ma i sofisti vedono l'uomo in un modo che poi sarà diverso da quello che sarà il modo con cui Socrate vedrà l'uomo. Quindi abbiamo presentato questa filosofia ad Atene come una sorta di diffusione della cultura e del pensiero tramite una serie di personaggi, di uomini di cultura, di sapienti, sapientissimi, che di fatto, se lo vogliamo dire in parole povere, erano dei maestri a pagamento, degli insegnanti privati, dei tutori di chi? Dei figli, dei cittadini più ricchi ovviamente che potevano pagare questi insegnanti. Quindi già il fatto che fossero insegnanti che trasmettevano il sapere a pagamento lo possiamo considerare come uno degli elementi di principale critica che poi verrà da parte di Socrate ai sofisti. Oltretutto anche il termine sofista al giorno d'oggi ha assunto un'accezione un po' negativa come qualcosa di sofisticato, quindi di troppo artificioso e il sofista è anche colui che in qualche modo ostenta una certa superiorità data dalla sua sapienza. Però in realtà questa qui è un'accezione negativa che ci proviene proprio dall'interpretazione che Socrate ci ha tramandato dei sofisti e che ha a che fare con una fase finale della sofistica, perché possiamo proprio utilizzare il termine sofistica come la prima parte del periodo antropologico di filosofia d'Atene. In realtà il primo periodo dei sofisti non era caratterizzato da un atteggiamento di superiorità oppure di, diciamo, snobismo intellettuale, chiamiamolo così. I sofisti erano coloro che credevano nel sapere come esercizio di virtù, cioè l'educazione, che in greco era chiamata paideia, finalizzata alla formazione di un uomo che attraverso il sapere e la cultura poteva essere un uomo più virtuoso. Questa è una cosa che condividerà anche Socrate. I sofisti insegnavano agli uomini la capacità di vivere in società, quindi il periodo antropologico è molto legato al discorso sociale, oltre che politico. E in che modo si rendevano gli uomini più capaci di vivere in società? Soprattutto attraverso la padronanza del linguaggio. Ecco perché abbiamo usato il termine retorica, che tornerà a essere presente nel discorso di oggi. La parola diventa l'elemento centrale per i sofisti, cioè il sofista è colui che insegna a parlare, diciamo così. Perché la parola che cos'è? La parola è lo strumento attraverso il quale l'uomo può far conoscere le proprie idee, i propri pensieri. La parola è la comunicazione del pensiero, ovvero del logos. E allora se la filosofia è logos, pensiero razionale, la parola è lo strumento che permette agli uomini di far conoscere agli altri il proprio pensiero e anche di convincere in qualche modo gli altri che il pensiero che si sta cercando di affermare è un pensiero giusto. Quindi la parola diventa strumento base nell'arte della persuasione, il persuadere. E la politica che cos'è? Nella Atene democratica del quinto secolo, dove la politica è democrazia, dove i cittadini devono votare un politico piuttosto allora la sofistica diventa la scuola per insegnare a parlare in modo tale da poter convincere gli altri che la nostra idea è quella giusta, l'arte della persuasione. E veniamo quindi a presentare il più importante dei sofisti con il quale poi ritroveremo questi termini che abbiamo già accennato. Diciamoli di nuovo per fissarli, retorica e dialettica. Abbiamo usato prima la parola dialettica, se lo rivediamo prima qui. La parola dialettica l'avevamo utilizzata con filosofi come Pitagora o Eraclito, il quale parlava di conflitto tra gli opposti e quindi dialettica è intesa come lotta, come opposizione, quindi come polemos, conflitto, scontro. E la dialettica è uno scontro, è un confronto. A partire dalla sofistica la parola dialettica è legata allo scontro, ma non degli elementi della natura, ma a uno scontro verbale, a uno scontro tra due personaggi, come quelli che potremmo vedere oggi in un dibattito televisivo, in una tribuna politica. Una dialettica è uno scontro tra due uomini che vogliono far valere due idee contrarie tra loro. Quindi la dialettica diventa l'arte di saper rendere valide le proprie idee, le proprie argomentazioni attraverso l'uso della parola, che è la retorica. Ecco, quindi la dialettica è saper far valere le proprie idee, la retorica è l'uso specifico della parola per giungere a quello scopo. Il filosofo principale è appunto Protagora. Protagora nasce ad Abdera nel 490 a.C. e muore ad Atene, dove appunto si sposta per insegnare come un grande sofista, un grande sapiente, circa nel 400 a.C. La parola più famosa, la frase più famosa del filosofo Protagora è anche la frase più famosa della sofistica, e cioè l'uomo è misura di tutte le cose. E questo ci fa capire anche perché parliamo di un periodo antropologico. Che vuol dire l'uomo è misura di tutte le cose? Vuol dire che le cose non hanno un valore assoluto, ma le cose acquistano valore in base all'uomo che gli dà quel valore. E quindi l'uomo è colui che rende valide le cose in base al proprio punto di vista. Cioè tutto ha valore in base all'uomo. È l'uomo che dà valore alle cose e che stabilisce cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. L'uomo stabilisce il buono e il cattivo, i valori, i comportamenti, la politica, il governo. È tutto finalizzato molto al discorso socio-politico nell'Atene della democrazia e di Pericle. Quindi alla base del pensiero di Protagora c'è quel concetto che è poi la base della sofistica, ovvero il relativismo. Il relativismo è la dottrina secondo cui ogni credenza, quindi ogni convinzione, ogni idea, ogni opinione è relativa a un determinato punto di vista soggettivo o culturale. Quello che vuole dire Protagora e che poi sarà fortemente contestato da Socrate è che non esistono valori assoluti, principi assoluti, ma tutto è relativo a che cosa? Ai tempi e ai luoghi, in base al luogo in cui ci troviamo una cosa ha valore piuttosto che un'altra. E quindi non esistono verità oggettive assolute, ma tutto è relativo. Non esiste una verità assoluta. Ogni cosa ha valore a seconda del luogo. Potremmo dire che ad Atene nel V secolo la democrazia ha valore. Se noi andiamo a guardare invece Alessandria d'Egitto nell'VIII secolo a.C., non aveva valore la democrazia. Questo direbbe Protagora non vuol dire che una città ha ragione e l'altra ha torto, ma vuol dire che le cose cambiano e quindi sono relative in base ai luoghi e ai tempi. Assoluto significa universale e valido per tutti gli uomini. Relativo vuol dire individuale. Questo vuole anche dire che i valori non devono essere necessariamente condivisi da tutti, ma ogni uomo può avere un pensiero suo individuale valido solo per se stesso. Allora cosa significa questo? Vuol dire che i valori che prevalgono sono quelli che vengono, diciamo, diffusi e vengono veicolati in maniera migliore da parte di coloro che riescono a parlare meglio, a saperli vendere meglio con l'arte della parola. E guardate che non stiamo parlando di un'arte come di un inganno piuttosto che di un sistema subdolo e, diciamo, malintenzionato da parte di persone cattive. Stiamo parlando di un'arte che aveva tutto il suo rispetto, l'arte della retorica, l'arte del corretto uso della parola, saper utilizzare la parola. Significa che io posso avere anche l'idea migliore, il concetto più bello che esista, ma se non sono in grado di comunicarlo attraverso la parola, non posso convincere gli altri e non posso trasmetterlo. Quindi la parola diventa veramente uno dei due concetti fondamentali della sofistica e di Protagora. Il primo è parola e l'altro è l'uomo, appunto l'uomo. La retorica è l'arte del corretto uso della parola e fondata anche sulla cosiddetta antilogia. Quindi non solo saper affermare la propria idea, ma anche saper, diciamo, smontare l'idea dell'avversario. L'antilogia è il discorso, tra virgolette, contro. Un discorso contro un'idea che per me è sbagliata. Viene appunto dal greco anti, cioè contro, logos, discorso, discorso contro. E allora la politica, nel periodo della sofistica, diventa la tecnica di tutte le tecniche. Cioè la politica diventa l'arte per eccellenza di far diventare validi i propri pensieri e i propri discorsi. In questa mappa concettuale sui sofisti possiamo riassumere i concetti fondamentali. Vediamo che il movimento sofistico è caratterizzato da un'attività di insegnamento a pagamento, quindi fondamentalmente erano degli insegnanti a pagamento, dei maestri, che è finalizzata appunto ad una trasmissione di un sapere finalizzato al successo politico e alla riuscita individuale. Quindi c'è anche una sorta di individualismo, di ricerca, di affermazione di sé nell'Atene democratica del 400 a.C., ma anche un'attività portata alla formazione delle competenze retoriche e linguistiche utili per affrontare le nuove esigenze della vita democratica. Il movimento sofistico è rappresentato da Protagora. Noi ci limitiamo a definire il principale, il primo padre della sofistica, perché poi ne troveremo altri come Gorgia, ma anche Prodico, Ippia e Antifonte, che saranno dei successivi sofisti che porteranno poi la sofistica appunto a quella, diciamo, tra virgolette degenerazione per cui diventerà un'arte un po' soggetta poi alle critiche di Socrate. Protagora cosa sostiene? Sostiene il relativismo culturale e morale. L'uomo è misura di tutte le cose, quindi i valori culturali, i valori morali addirittura, quindi il bene e il male, hanno una validità relativa, come vedete, le credenze, le leggi, i costumi, i valori, sono relativi al contesto storico-culturale in cui si sono formati. L'unico criterio di verità è l'utile e lo strumento del consenso è la parola. quindi l'utile, non l'abbiamo definito finora, è, diciamo, ciò che porta maggior beneficio agli uomini. L'utile. L'utile è l'unico elemento che può stabilire una sorta di validità oggettiva. Ciò che è utile è criterio di verità, ma anche questo concetto di utile è poi relativo in base al sistema di valori, di credenze, di principi morali che si vengono ad affermare in una società specifica. Quindi la parola ha un potere assoluto e da qui in poi vedremo che avrà inizio la figura, la personalità di Socrate che darà vita a quella che noi poi chiameremo scuola di Atene perché Socrate sarà maestro di Platone che sarà maestro di Aristotele. E quindi Socrate come primo, diciamo, antisofista tra i sofisti. Socrate come esponente della crisi della sofistica darà vita poi alla seconda fase del periodo antropologico che però porterà a Platone suo grande allievo e ad Aristotele allievo di Platone. Socrate, Platone ed Aristotele saranno i tre grandi filosofi della filosofia ad Atene che abbraccerà il periodo antropologico con Socrate e il periodo ontologico con Platone e Aristotele.